Musica Bella a tutti ragazzi, bentornati nel Dark Channel, io sono DarkLunici e bentornati in questo nuovo episodio qui su Minecraft Exit Allora mi avete detto che per riluminare lo zaino devo tenere l'inventario chiuso e vediamo un po' se va, perfetto, mettiamo qui oggetti, oggetti trovati, ok, perfetto Mentre questo lo chiamiamo così, materiali imp, ok, perfetto Allora, abbiamo l'armatura quasi a zero, quindi è quasi ora di rifarcela Allora, innanzitutto togliamoci questo, 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 che dopo li riprendiamo Così, così, queste qua sono tutte cose da riprendere Zainetti dobbiamo svuotare, questo da togliere Allora, andiamo qui per tutte le cose qua dei mob Vabbè, questi qua sono i semi di fiori, quindi Questo, 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 questo E basta Mentre qua dobbiamo mettere tutto il resto Tipo questo, questo Dove stanno i materiali? Questi qua, questo qua, questo pure Poi basta, mentre gli altri materiali qua Perfetto Così abbiamo svuotato almeno un po' Vediamo qua che abbiamo Vabbè, questo ce lo teniamo Questi ci servono per rifare l'armatura Questo lo possiamo anche lasciare Questo, ah, questo lo togliamo Questo pure Questo pure Questa, vabbè, la togliamo Questo ce le prendiamo E perfetto Mentre questo No, la chest Mentre qui togliamo tutto quanto Perfetto Voilà Quindi, adesso mettiamo un attimo in questo qui Che tanto mi funzionerà da chest Ma ci metto gli zainetti a sta posto Quindi tra le cose dei mob devo mettere questo Questo, questo Vabbè, questi qua me li rimetto Fire protection 1 Feeder falling 4 Project Quindi, meglio questi I pantaloni ce li abbiamo Perché tanto l'armatura questa qui è ormai da buttare Quindi Ah no, questi qua sono materiali Bisogna toglierli Allora, questo, vabbè, me l'hanno dato i mob Questo La tolgo Questo me lo metto E basta Penso di sì Ah no, questa Questa che cos'è? È solo una mazza? Serve a qualcosa? Ah, water stuff Che spettacolo Water stuff Poison stuff Ice stuff Fire stuff Dark Electric Wind Hailing Water Secondo me è buona Sia la wind Ma come si fa la staffa? Ah, con la magic essence Che è composta da tutte Ok, però A noi ci serve Solamente una Di tutte le staffe Esistenti Quindi Vediamo un po' che cosa Questo qua si toglie Oh Scusate Tate Eh Ok Perfetto Allora R Ok Perché non mi fa vedere? Com'era U? U Ah, sì, era U Ok, water Dovrebbe tirare l'acqua Poison Vabbè, dalla poison Di ghiaccio Oppure non è male Di fuoco Oppure Dark Electric Wind Non so sinceramente Quale fare Boh Noi abbiamo tutti quanti Penso di Diamo Sì, le abbiamo quasi tutti Water Life Ah, pure life Fire Wind Electric Water Dark Eh Quale possiamo fare? Beh Facciamoci la water Dai Così E così Via E ora sono curioso Di sapere Uh Che svario Vabbè Eh Che fanno? Che 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 servono? Ehi Che cosa servite? Boh Ah Forse mi fanno Questi qua Vabbè Allora Dove stanno Gli smeraldi? Qua No Questi mi servono Perché li sto togliendo Allora Questo è da togliere Togliamo tutto quanto Ok Questo penso E me lo metto Vediamo un attimo Questa armatura Ormai è tutta da buttare Vediamo un po' La protezione Non è molto alta Forse questo è forte Ma questi non servono Quasi a niente Io Proporrei di lasciarli Tutti quanti Vediamo armor Ar Armor Ma Ah vabbè Giustamente Allora Vediamo chest plate Chest Ok Vediamo che ci sta Scale Gold Scale No Vabbè Diamond E quelle classici Ma questa qui Non abbiamo Uh Questo è vario Questa cosa si fa? Con le scale Che si fanno Non si sa E quindi dobbiamo Continuare ancora Con il diamante Allora Lavoriamo innanzitutto Questi diamanti Perfetto E ci dobbiamo fare Uh Così Perfetto Questo Poi Così I pantaloni Perfetto Poi Che ci servono Le scarpe Così E vediamo Se l'elmetto Che abbiamo Protegge Come uno di diamante Sì Perfetto Quindi ci teniamo L'elmetto Che abbiamo Allora Adesso Possiamo Ripartire Riprendendoci Questo e questo Però Questa volta Allora Questo 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 Perfetto Poi Qua Questa Non ci servono Un po' Di ferro Ce lo portiamo Poi abbiamo Gli stick Allora I biscotti Per mangiare Basta così Sì Questo Non ci serve E qui Portiamoci questa Anche se non so A cosa serve Ora Sistemiamo un secondo Gli zainetti Perfetto Allora Oggetti trovati Deve essere vuoto Ah materiali importanti Questo Questo Non ci serve Il letto Eh no Vabbè Uno solo Di letto Poi I diamanti Sicuro Poi Questa Che non userò Subito Questa Qua Che la voglio provare Questi Non servono Questi nemmeno I biscotti Ci servono Questo ci serve Poi La spada La mettiamo qua L'arco Qua E questo qua Poi La tin La dobbiamo togliere E queste due Ci servono Perfetto Levo la tin Il letto E questo E questo Perfetto E ancora Qua ci devo mettere Il carbone E poi basta così Ora Mi tolgo questi due Metto questo al limite Le frecce Non mi servono E queste due Le teniamo qua Perfetto Magari non tutte Nove le fornaci Così E voilà Una sola E poi basta così Dai Allora Il letto Non mi ricordo L'abbiamo preso? Aspettate Aspettate Sì Perfetto Ora Tolgo questo E ci metto La paletta qua Perfetto Allora Dove possiamo andare? Dobbiamo andare a cercare Un po' di rape oggi Spero di aver capito Quali sono Cioè In teoria Potrebbero essere anche queste Ma non credo No 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 Dovresti vedere La parte nera Sì La parte rossa Allora Vediamo un po' Se le riusciamo a vedere Da queste parti Eccole là Dovrebbero essere quelle lì Poi voi Ditemi se sono quelle Oppure no Questo è qua Voilà Perché se sono Ah aspettate Proviamo questa cosa Che spettacolo Figata Le devo fare tutte quante Queste cose Che Secondo me Sano fortissime Vabbè Comunque Le rape sono queste Anzi Adesso andiamo pure A provare Direttamente sul ciocobo Se sono quelle giuste E che è sto fiorellino Blu Che mi da Uh Che figata Exicaless Bello Bello Dove sta l'altro ciocobo Quello più vicino di casa Tante le piume Ce le fottiamo Ehi Dove sei? Che fine ha fatto? Ah eccolo Vediamo un po' Ti piacciono le rape Eh? Sì Queste sono Sono usciti i cuori Già No Può essere Ma già così subito Escono i cuori? Dov'è la salla? Non credo Vediamo Sì Volete vedere che già ho Il ciocobo? Oddio Yeeeh Trudun 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 Vai Che spettacolo Yuhu Vai Grandissimo Ok Dovremmo fare anche il recinto Per questo qui Allora io adesso dormo E poi faccio il recinto Off camera E dopo andiamo un attimo All'avventura con il nostro Giocobo Ok ragazzi Ho fatto il recinto Poi ditemi Se non scappa Da un recinto Così a uno Cioè Spero che Non scappi Ok Quindi Dove possiamo andare Adesso? Dobbiamo arrivare Al castello là Yeeeh Vai Corri Vai Ma non vola? Vai sali 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 Yuhu Vai Vai Sali E dai Sali Su Dai È il bravo Un uccello di merda Allora Devo trovare una strada Più veloce Vai Sali Sali Corri 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 Ma non sali più di un blocco? Ah ok Bravo Perfetto Vabbè ragazzi Io adesso Arrivo off camera Al punto dove eravamo caduti Non so se vi ricordate E ci risalgo con questi blocchetti qua A fra poco Ok ragazzi Sono risalito Ehm Purtroppo Mentre venivo Ho trovato l'entrata del castello Cioè Ho visto due librerie Allora Ho aperto E c'erano tante di quelle cacchio di pressor plate Con I dispenser che lanciavano frecce Ho fatto una lamerata Guardate POM Guardate quante frecce abbiamo No ma voi l'avete vista quante frecce abbiamo Guardate Guardate Cioè stiamo pieni pieni Tra l'altro per salire qui ho pure finito il materiale da costruzione Ok Forse sarebbe il caso di mettere un po' di roba lì Ok Allora proseguiamo con il castello Questa chest L'abbiamo già aperta Sì Ok Andiamo avanti Qui dentro Chest Già vuoto Perfetto Vai 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 Aia 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 Zzzzzzzzzzzzzzzzzzi Eh no Caro mio Vaffan Napoli Vai 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 Muori 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 Perfetto Piano piano Le torce Le torce Ok Al posto delle cose che abbiamo già visto Tipo qui dentro Niente Qui C'è essere Uh non so cos'è però è spettacolare Noi fottiamo tutto Apriamo questo Che c'è di spettacolo Ma è uno scudo Aspettate eh A parte questo e questo No le frecce no Ma sto dicendo seriamente che è uno scudo Perché io lo posso mettere qua Che figata È uno scudo Uh Vabbè però adesso Non rischiamo di perderlo Quindi facciamo così E così Poi mi dite come si usa lo scudo per attivarlo Perché cioè a me non l'ho visto Sul braccio Poi fatemelo sapere voi come si attiva Allora Così E così E continuiamo ad andare avanti Allora 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 Mettiamo un po' di torce Perfetto E Ui 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 Tu quanto ne vai su Tu con lui E tu pure con lui Intanto Io rompo questo Tutti su Via Andiamo avanti Andiamo avanti Intanto Eh no Caro mio Vai su No Aspetta ti rimando su Pam Vai su Oh cibo Buono 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 Il cibo ci serviva Qua su Andiamo avanti Creeper Uh che spettacolo Bello Vai 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 Bellissimo Non so a cosa serve Bellissimo Non so a cosa serve Però è tutto bello Vai 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 Andiamo avanti Oh le Un ciccino Ciao Ecco vedete Perché io non ho lo scudo Come lui E' scemo Come lo colpisco Sì ma come lo Lo trito Questo Ma Anche i gocci Arrivano Oddio Ma vai su allora Grande L'ho one shotato Con sta Cost Stiamo per arrivare in cima Ragazzi Aiuto Vabbè cibo il pane Questo Questo Lo prendiamo Ci può essere sempre Utile Andiamo avanti Vai Speriamo di trovare Qualche altra cosa Super spettacolare Questo castello E' impossibile Se non ve Ripulirlo tutto Muori Vai che muori subito Tu Dai Ormai voi siete scarsi Vai via Allora intanto vediamo qua Che figata Non so cos'è Però è una figata Cosa lascio Lascio questo Questo Mio Lasciamo questo Mio Questo pure è mio Però c'ho il coso pieno Però sono cose spettacolari Che non posso lasciare Cosa lascio Cosa lascio Cosa lascio I cosi Cocomet Metti qua Metti qua Metti qua Revolver Iron spear E' un altro bow di ferro Vabbè noi mettiamo tutto qua Questo 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 Madò Che spettacolo Infatti abbiamo fatto Poche Uh altre essence 8 Dov'è Pam Pam Vabbè dai Boom Ma da dove Vabbè Andiamo avanti Oddio che spettacolo Abbiamo tolto tantissima roba Super spettacolare Vai via Tu pure vai con lui Tu non ne parliamo Tu Show Show Allora Aspettate Torcia qua Vabbè Al posto delle torce ho messo Quase Allora Tu vai su 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 Bravissimo Esplode in aria Fuori uno Due Ai ai ragni no 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 Ma andatevi un attimo via Magari Faccio fuori il vostro spawner Perfetto Così non Non rompete più le scatole Oh Perfetto Chiudiamo il buco Così Non risale più nessuno E nessuno rompe più le scatole Ok Abbiamo fatto fuori degli spawner Però invece non ci stava nessuno Poi ci sta sto tipo qua E un arciere pure quello Vai vediamo chi è più forte Dai 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 E' scarso eh Ma muori Scarsone Ritirati Allora adesso facciamo così Arriviamo qui sopra Questo lo lasciamo Finiamo di farci questa chest E poi qui chiudo il video Così L'episodio dopo saliamo al piano di sopra Cose fighissime Cose fighissime Che spettacolo Vabbè lascio un po' di frecce Me ne prega niente C'è un altro arco di ferro Ma Sono cose fighissime Allora magari Io qua Sarebbe l'ideale Magari di chiudere questa Entrata Nella quale è meglio che Non passi nessuno Così proprio E qui mettiamo altre torce Lì è proprio il punto dove andremo la prossima volta Ovvero Entrare Sopra Sopra le mura Che sarà secondo me la parte anche più difficile Adesso ci freghiamo tutto da questa chest Che figata Ok Allora Ora non so veramente cosa fare Perché sto pieno di roba Poi c'ho un revolver E non so neanche come usarlo Ci vogliono i colpi Vabbè ragazzi Quindi io sinceramente Non so veramente cosa fare C'ho tanta roba Tantissima roba Vediamo un attimo Aspettate Fatemi rompere tutto quanto Allora se io rompo qua Che c'ho pure il mio ciocopo giù Eccolo là Quindi se rompo qua Mi ritrovo in quella zona Però Non lo so Vabbè ragazzi Io adesso penso che off camera Ritorno a casa E porto tutta la roba a casa Poi nel prossimo episodio Andiamo lì Voi comunque consigliatemi delle armi Quali tra queste armi sono le migliori Perché Poi come Quali sono i proiettili del revolver A cosa servono questi Poi lo vediamo insieme Iron plated Queste cose da me saranno forti Queste cose Vabbè comunque Vediamo un attimo Se io levo questo E metto Questo Vediamo che cambia Vedi? Però è respiration 2 Cioè non so cosa serve Però va bene Vabbè ragazzi Allora Io vi ricordo di mettere mi piace Iscrivervi e commentare E ci vediamo In un prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti